E' permesso? Posso entrare? Non disturbo a quanto pare. Che mi dite? Posso entrare. E sono entrato in queste belle sale che alloggiano il consiglio comunale. E a tutti i consiglieri che son qua chiedo un consiglio e me la vi darà. Consigliate ma consiglie, sto consiglio ma da salva. Consigliate ma consiglie, non consiglio ma vi darà. Mi sono fidanzato a una guagliona che a una madre vedo assai buona. Questo consiglio ma che mi consiglia, prendo la madre oppure prendo la figlia. Date ma sto consiglio, date ma sto consiglio, voi che siete consiglieri. Mi dovete consigliare con consigli sagli e seri. Dico bene, non vi pare che mi dite me l'ho dato sto consiglio. Come dite? Ma combina mamma e figlio consiglie questi consigli. Voi li date proprio a me sconsigliate ma consiglie. Finalmente sono riuscito, finalmente mi hanno capito, ma mi possono ascoltare. E faccio appello a questi maggiorenti, da tutti sti potenti e strapotenti, voglio un consiglio. E non me l'hanno da, se no qua sto consiglio che c'è fa. Consigliate ma consiglie, sto consiglio mi ha da salvare. Consigliate ma consiglie, non consiglio ma vita da. Dentro la gabbia tengo un fringuello, che è un esemplare veramente bello. Da molto tempo la signora porta, gli sta facendo una spietata corrotte. Data me lo consiglio, data me lo consiglio. Questo uccello è il patrimonio del futuro matrimonio. È la sola bella cosa che ho promesso alla mia sposa. Che mi dite? Vieno presto a questa pazza. Che mi dite? E se poi me lo strafazza, consigliate ad un consiglio, a un coniglio come me. Consigliate ma consiglie. Se la mia fidanzata sul più bello, viene e mi dice dove sta il fringuello. Io la conosco quella se si arrabbia, mette le mani pure dentro la gabbia. E perciò chiedo un consiglio a chi è furbo più di me. Consigliate ma consiglie. Consigliate ma consiglie. Consigliate ma consiglie.